Allora, mi chiamo Fiorella Zambenedetti, ho 68 anni, abito a Mestre, in provincia di Venezia. Allora, guardando su internet, guardando, guardando e guardando, ho trovato questo posto che mi è piaciuto più di tutto. Poi parlando con mia sorella, ha detto che il suo pasticcere era venuto qui a farsi i denti. Allora, ho telefonato, ho parlato con le ragazze e sono venuta su con lui. Io cominciavo a perdere i denti continuamente per una malattia. Qui sono arrivata, mi hanno accolto benissimo, hanno fatto un miracolo su di me. Dopo sei mesi sono tornata. Il miracolo è avvenuto. Mi trovo benissimo. La prima parte ho lasciato un po' del mio cuore qua. Adesso me lo riprendo e me lo porto a casa. C'è una KIP meravigliosa. Le ragazze sono ottime. I medici, soprattutto il mio medico, è speciale per me. Mi schiava. Andrei. Il dottore Andrei è speciale per me. Ma posso dire di tutti, di tutti. E altro cosa posso dire? Che ho consigliato le mie amiche. Già sono venuti due ragazzi a farsi i denti e ne verranno altri. E in futuro continuerò su Facebook a mandare i vostri messaggi. Anche perché vi vedo continuamente. Parlo con il dottor Palma continuamente. Oggi ho il mio sorriso e i miei denti nuovi. E sono contenta perché quando torno a casa i miei amici vedranno il risultato che loro non speravano tanto in questo miracolo. Anni ha anche il mio medico che oltretutto il mio medico fa anche il dentista. E lui mi ha consigliato di venire qua e quando ha visto il primo lavoro ha detto bello vai e poi fammi vedere il secondo lavoro. Di più non posso dirvi, devo dirvi grazie, grazie, grazie a tutti.